Ciao ragazzi, sono Andrea e ho deciso di aprire il mio canale YouTube. Ho deciso di aprirlo solo adesso dal 2011 perché sono un ragazzo abbastanza timido quindi ero un po' pauroso all'idea di aprire il canale, però adesso ho deciso di aprirlo e spero che io mi diverta in questa esperienza, voglio imparare tante nuove cose e spero di abbattere il muro della timidezza che è quello che maggiormente io sfido aprendo questo canale. Ho 20 anni e apro principalmente il canale per hobby, per divertimento e niente, io spero che comunque vi iscriviate e spero che io faccia dei video e spero che vi piacciono e niente, questo sono io e ovviamente mi racconterò nei prossimi video e niente, spero che vi piaccia il mio canale e quello che vorrò farci. Ciao!